Tu filma? Questa è la sua ritorna come erotica! Ma al massimo che si vede è questa. No, la devo chiamare questa. Ma no, quella non si vede. Cioè, filma, ma tu calma. No. Al massimo che si vede bene. Ma che mi frega, a me le pazzo, guarda, io non lo so. Ma sai che c'è stato davanti a me? Quanto parta? Davanti a me, io te sto davanti. Guarda, guarda, questa non sta. Ecco, lo vedi che sta facendo. Questa è qua dentro. Guarda, lo sa, guarda che si sta facendo i telefono. Sta con la camicia viola, e con il castello, c'è un'orecchia bumbo, dire. Il Elide sta fatto in nato. Mi bella con ilulo là. Tornando là. La fima è? Va fima! Non lo sappiamo. Ma no, perché noi ci stiamo a totale. 要 super di noi. Grazie a tutti. Andiamo là sotto, vedete? Francesca mi ha fatto pure perdere. Non si vede perdere. Non si fa là sotto, vedete? Si, si fa scendere. E' quella che veniva in palestra che è la maglietta viola. Che ne so, quella che ci parlavi te. Ma c'è la maglietta viola? No, un giacchetto viola. Cosa sta? Ha fatto con un amico. Ma c'è, ma è solo da là. Sta là. Sta fatto con un mio amico ha fatto. Gianco. Grazie a tutti. Grazie a tutti.